La Fondazione Istituto Stracarro di No ha deciso in questo momento così nefasto, così complicato di dare un piccolo contributo a bambini e ragazzi ospitati da casa e famiglia, proprio all'interno degli zainetti che sono stati donati poi da un amico del Comune di Napoli e lì all'interno noi abbiamo acquistato quaderni, squadrette, pastelli, penne, album da disegno, tutto l'occorrente perché questi nostri amici con meno possibilità possano concludere al meglio il loro anno scolastico. Le case d'accoglienza, le case famiglia e naturalmente le comunità per minori costituiscono una realtà che intercetta molta della difficoltà, del disagio e della povertà educativa, difficoltà e disagio che non può che aumentare in tempi di pandemia. Quindi un dono, un'attenzione, uno sguardo su questa utenza particolare è sintomo di grandissima sensibilità da parte della Fondazione. Con una importante iniziativa di solidarietà che viene da una cartolibreria importante di un quartiere di Napoli abbiamo messo in rete delle istituzioni importanti per rispondere a dei diritti, quelli dell'istruzione e dell'infanzia che in questo momento devono ancora più diventare prioritari nella nostra battaglia al coronavirus ma soprattutto nel nostro ricostruire insieme le nostre città dopo questo trauma così profondo. Vuole essere soltanto un piccolissimo contributo e allo stesso modo invece per 15 ragazzi non vedenti ed ipovedenti regaleremo dei giochi molto inclusivi con cui possono giocare anche con i loro fratellini, con i loro amichetti e sperando di uscire presto da questa pandemia.